Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì. Crederà il graduale allontanamento della perturbazione transitata sul nostro paese domenica, però al mattino il tempo sarà ancora piuttosto bruttino nelle regioni meridionali. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia e ritroviamo delle nuvole ancora al sud, regioni del medio adriatico e quelle meridionali, peninsulari soprattutto. Comunque nuvolosità che lascia la spazio anche a delle graduali schiarite in giornata. Al centro nord invece situazione più tranquilla, anche come precipitazioni vi devo segnalare ancora qualche piovasco nelle regioni meridionali e sul medio adriatico. Piogge per lo più isolate, alternate anche delle pause con qualche parziale schiarita, però ripeto al sud è situazione molto movimentata e anche con parecchio vento, attenzione. Quindi in definitiva ci attendo lunedì che vedrà un netto miglioramento nelle regioni centro-settentrionali, vi segnalo solo ancora qualche fiocco di neve sulle cime alpine di confine transitano delle perturbazioni sull'Europa centrale. Il sud invece avrà una mattinata soprattutto ancora molto movimentata con nuvole, precipitazioni, parecchio vento, vi dicevo, vento dai quadranti settentrionali e quindi in tutta Italia temperature sì nella norma ma non particolarmente alte. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.